Allora, siamo qui alla fase finale della World Cup. Abbiamo vicino a noi il nostro famosissimo Cristian Cerreto che gioca con il Fium Brasile. Cristian, avete appena vinto una partita veramente combattuta ai rigori. Che cosa ci dichiavi? Che ora faremo le semifinali e sarà molto difficile. Senti Cristian, chi è stato il miglior giocatore secondo te del Brasile? Jacopo Guido. E invece delle altre squadre chi sceglieresti? Pasquale dell'Argentina e dell'Italia Antonio. Va bene, grazie e in bocca al lupo per il resto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.